Allora Parliamoci chiaro Complimenti a Napoli Scudetto meritato Quello che vi pare Prima di tutto Perché comunque non mi sono mai complimentato Napoletani e tutto per loro Scudetto Però te oggi Sei sceso pure bene in campo Perché nel primo tempo la Frentina ha giocato bene Ha creato E stava anche per trovare il gol del vantaggio Poi magicamente mette Venuti E si fa pena Ora non è che è colpa di Venuti Perché poi rigore lo causa Niko Gonzalez Anche se è un rigore che Sì c'è secondo me Perché il contatto c'è Però leggero Non è netto Però era rigore secondo me Però ragazzi Io non posso ancora vedere queste prestazioni C'è il Basilea giovedì Ora io non è che volevo andare a vincere Napoli Però volevo vedere una prestazione Non volevo Perché? Perché? Niko Gonzalez oggi era da allevare subito Ma ha fatto pena oggi Niko Gonzalez Mi dispiace dirlo Sottile ha fatto pena Bene Jovic Bene Jovic a Spezzoni Bene Duncan E poi Terracciano fa quell'errore Poi fare il rigore a Ozyman Che poi Appunto Risegna sul calcio di rigore Dopo averlo sbagliato Però ragazzi Non è possibile Una prestazione del genere Non è possibile Cioè Giovedì c'è il Basilea Ragazzi Io lo ripeto Giovedì c'è il Basilea Se gioia così contro il Basilea Come gioia nel suo tempo Ora a Napoli Poi uno mi dirà nei commenti Sì ma è il Napoli No Non è il Basilea Il Basilea non è il Napoli Però ragazzi Parliamo chiaro E non si fa due passaggi di fila Io capisco Che non contava nulla oggi Però Io l'ottavo posto Lo vorrei in campionato Non voglio Arrivare A fine stagione E trovarmi senza coppe Perché magari La Juve la fanno fuori Dalle coppe Ti arrivi nono E non vinci nulla Ecco Quindi Cerchiamo di arrivare a ottavi Però Ora concentriamo Sul giovedì Perché È troppo importante Io non voglio fare sfogo Anche se il titolo Metterò Sfogo Sfogo Complimenti al Napoli Lo ribadisco Perché comunque Hanno vinto uno scudetto Strameritatamente Dall'inizio alla fine Dominato 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 Però mi fanno incazzare A me I miei Giocatori Perché non puoi Avere questo atteggiamento Ma sembrava Dovessero andare a fare l'oratorio Cioè Piuttosto Mi dicono Guardate Non si va a Napoli Si pensa solo al Basilea Si perde 3-0 a tavolino Forse era meglio Perché mi stavo Per addormentare A vedere questa partita Orribile Ragazzi Dai Ora va bene tutto Poi Il Napoli O comunque festa a scudetto Non ha nemmeno Giocato una gran partita Dal Napoli Nel complesso Però Nel secondo tempo Entrata la botca Boom Rigore subito Anche se c'è un errore di interazione Lo ribadiamo Però non è possibile Non è possibile Non è veramente possibile Ragazzi Io ora capisco tutto Capisco che volevate pensare A Basilea Ma ora C'è da vincere a tutti i corsi Per Basilea 2-0 minimo Anche se Basilea Vogliamo ricordare Ha perso 2-0 In casa Contro lo Zurigo Però ragazzi Per favore Io ve lo credo per favore Io non chiedo tanto Nella mia vita Dalla calcistica Dalla Fiorentina Io chiedo soltanto Di avere dell'umiltà Ora non è che oggi All'umiliazione Attenzione Non mi fraintendete Però ragazzi Noi bisogna Assolutamente Arrivare Fino a fondo Anche in conferenza Io voglio un trofeo Perché altrimenti Questa stagione Potrebbe essere Veramente Non dico fallimentare Ma sarebbe Una delusione Scusate Veramente Troppo profonda È troppo È troppo Pesante Per la Fiorentina E per tutti i tifosi Che la si fanno Ribadisco Complimenti al Napoli Che ha vinto Lo scudetto Però ragazzi Così No Allora Primo tempo Sei e mezzo Secondo tempo Secondo tempo Secondo tempo Imbarazzanti Imbarazzanti Si è fatto pure fare Clean sheet A Gollini Madonna Che vi dico Un bel like Un'iscrizione Un bel commento Qui sotto Mi raccomando Ci vediamo Giovedì Dallo stadio Vi consegnerò Anche gli adesivi E tutto Fiorentina Viola Forza Fiorentina Forza Mister Forza Forza a tutti Per favore Per favore Ditemi appunto Come ho detto prima La vostra nei commenti E noi ci vediamo Ciao ragazzi